A disposizione Bassi, Bruno, Valeri, Giverto, Martínezza e Federico Di Materi, 4-17, allenatore Alessio. A disposizione Bassi, Bruno, Valeri, Giverto, Martínezza e Federico Di Materi, 4-17, allenatore Alessio. A disposizione Bassi, Bruno, Valeri, Giverto, Martínezza e Federico Di Materi, 4-17, allenatore Alessio. A disposizione Bassi, Bruno, Valeri, Giverto, Martínezza e Federico Di Materi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!